amici del senza fretta eccoci qui a presentare una nuova escursione valida per il club dei 1000 e quindi di conseguenza vuol dire che sono più di 1000 i metri di dislivello che andremo a fare per la precisione dovrebbe essere circa 1150 comunque alla fine di questo video come sempre troverete la scheda tecnica con tutti i dati precisi dove siamo siamo a cavallo in questo momento da dove vi sto parlando sono proprio a cavallo fra la vallanzasca e la vallantrona un posto magico questo un posto che amo ogni tanto così ritornarci ed è la prima volta che lo presento al gruppo anche perché insomma bisogna avere un poco di gamba qualche anno fa non eravamo ancora pronti per fare dislivelli di oltre 1000 metri ormai da più di un anno insomma ci cimentiamo anche su queste escursioni un poco più difficili questa è un'escursione io dico veramente di ampio respiro per la varietà anche dei paesaggi che vediamo perché passiamo da un paesaggio tra virgolette urbano come potrebbe essere all'inizio quando partiremo proprio dalla bella castiglione per poi raggiungere yelmala da lì a drocala e poi da lì una serie infinita di alpeggi proprio per questo l'ho chiamato 13 alpeggi e una colma così proprio da dare l'idea di quello che andremo a vedere un giro ad anello e quando si arriverà qui appunto provenendo dalla vallanzasca c'è questa sella la colma così viene chiamata che è una vera e propria sella che divide la vallanzasca dalla vallantrona anzi ve la faccio vedere anche perché siamo fortunati pensate siamo a fine maggio però come potete vedere le montagne portano ancora neve guardate quanta neve c'è ancora lì laggiù in fondo si vede bene la centrale dell'enel e poco più sopra antrona piana questo è il rifugio dove faremo il nostro pranzo il rifugio proprio della colma e adesso vi faccio vedere invece da dove siamo arrivati questa è la vallanzasca guardate che belli questi prati e laggiù oggi si vede poco perché c'è foschia ma si vede perfettamente pallanza la bella pallanza si vede proprio il golfo delle isole borrome e poi qui tutto la bassa valdossola con con tutti i paesi della valle ma è veramente molto molto bello è un giro come dicevo ad anello un giro che non presenta particolari difficoltà ecco questa è la strada che faremo al ritorno dove vedete dove c'è quell'alpeggio poi cominceremo a chiudere a cerchio diciamo che non è fra i giri più conosciuti sicuramente della vallanzasca anche perché insomma la vallanzasca ha un piccolo problema un gran bel piccolo problema che in fondo alla vallanzasca c'è la splendida macugnaga quindi tante volte si è portati ad andare appunto nella località di maggior richiamo la località più blasonata appunto in questo caso è macugnaga e i paesi che sono un po prima diciamo che ne risentono un poco qui siamo proprio all'ingresso della vallanzasca e perché castiglione a pochi minuti proprio dall'inizio della della strada però ci dà la possibilità di avere innanzitutto delle bellissime viste perché appunto spaziamo dal lago alle alle cime che vedete qui dietro della dell'alta valantrona e poi insomma ci dà la possibilità comunque di conoscere meglio il nostro fantastico territorio questo è sempre comunque il mio obiettivo principale è quello di portarvi a conoscere anche quella montagna meno conosciuta ma non per questo meno bella se avete bisogno di altre informazioni come sempre scrivetemi i numeri di whatsapp che vedete qui sotto whatsapp lo strumento che preferisco per tenermi in contatto con voi intanto io vi aspetto qui alla colma ciao grazie a tutti